Falso, falso, è proprio, è una vaccinazione del cervello sinistro della nostra immaginazione, è temporanea, un fermo temporaneo della nostra intelligenza, ma come si fa a dividere tutto con un'altra persona? Già, ma ammettiamoci che ogni tanto siamo equisti, mica vogliamo qualcuno sotto i piedi, non vogliamo nessuno sotto i scatoli. Dopo una giornata così pesante di lavoro, stressante come questa, per esempio, tu torni a casa, ti vieni e ti rilassi, una bella vasca magari, con la musica, ti rilassi, non devi cucinare la vasca, devi sentire quello che vuole il tuo compagno, ma come si fa? Faccio bene io, questo da sola, e ti rilasso, sola. Che bella questa paura, sola, 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 però è sola, è sola, no, non è giusto, 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 anche io voglio trovare amore della mia vita, non è giusto, non è giusto, sono sola.